blazer 1 ripeto recupero indispensabile ripetete blazer 1 ripetete red fox richiesta di recupero respinta siete troppo lontani dal confine raggiungete il settore 3.000 per il recupero della prigioniera con priorità alfa il prossimo contatto alle 10 e 30 roger blazer 1 prossimo contatto alle 10 e 30 maledetti bastardi dicono che siamo ancora lontani e che non possono rischiare il recupero siamo pedine caro mio pedine sacrificabili è uno dei rischi del nostro mestiere io lo accetto non è vero non lo accetti come noi qui dove siamo nessun elicottero potrebbe recuperarci sargente 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 chi erano quelli non lo so ne ho visto solo uno mimetizzato davanti a me con gli occhi che gli sparivano cosa hai detto aveva gli occhi che gli sparivano maggiore sa soltanto una cosa che gli ho tirato dritto addosso 20 caricatori dell'am 60 li ho votati niente di questa terra sarebbe sopravvissuto a quella distanza mac fai tu il primo turno poi riposati chiedilo a lei fatelo dire da lei quello che ha visto e quello che è successo a maggiore avanti chiedilo che passò oggi che fuori che fuori che viste ti dice lo che sei fuori la selva che se lo llevo che maschieris che te diga ripetelo stesso ritornelo la giungla che sei animata e lo ha rapito Vili tu qualcosa sai cos'era? ho paura poncio che idio sia non c'è uomo che te metta paura laggiù c'è qualcosa in agguato e non è un uomo moriremo tutti sta cedendo sta perdendo il controllo saranno un paio di ribelli che ci tendono a guati basta prenderli insisti a non voler capire vero? di qualunque cosa si tratti ha ucciso Hopper e adesso vuole noi